Ottimo risultato, sono veramente contento per la nostra patria, per il nostro paese, eroico davvero Coppasta, meritata anche se comunque non seguo, ahimè, però ovviamente qualche giusto è giusto e sono appunto felice, non solamente un coglione, un ipocrita, mi dice ma che cazzo me ne frega, me ne frega come, soprattutto quando una cosa si guadagna, veramente, quindi i miei più sinceri complimenti, davvero ragazzi, dobbiamo prendere esempio da chi lotta con tutte le sue forze e poi riesce alla fine a portare a casa il risultato, secondo me è una cosa che dobbiamo prendere da esempio, lo dice una persona che comunque nella vita ha lottato diversamente, il sottoscritto, soffrendo, 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 sbagliando, soffrendo, facendo cose, il fine giustifica i mezzi sempre, ovviamente però se la cosa è giusta, i miei complimenti, spero che l'Italia possa raggiungere la vetta nello sport e in tutto, come Mary.